Dal seme al piatto è stato l'innovativo modello produttivo che ha accompagnato mezzo secolo della pionieristica avventura dell'agricoltura biologica Gino Girolomoni. Dalla semina al cielo è invece il progetto culturale che celebrerà quell'avventura iniziata nel 1971 nelle campagne di Isola del Piano. Martedì 31 agosto nel monastero di Montebello la storia di Gino Girolomoni scomparso nel 2012 e di sua moglie Tuglia diventerà una pièce teatrale in un progetto promosso dalla provincia di Pesaro Urbino e dal comune di Isola del Piano. Progetto che ha toccato emotivamente Giuseppe Paolini amico di Girolomoni fino all'ultimo giorno. Mi sento coinvolto, mi sento partecipe in prima persona ed è una cosa che il giorno che ho conosciuto Aureliano Delisi, il drammaturgo, gli ho quasi chiesto con forza di fare una rappresentazione che raccontasse la vita e i pensieri di Gino e di Tuglia, vita che hanno attraversato a Isola del Piano in cui io ed altri amici siamo stati partecipi che ha portato poi alla nascita di quella che è la realtà del biologico in Italia e non per niente Isola del Piano è considerata la capitale del biologico italiano. Per Maria Girolomoni, figlia di Gino e Tuglia e presidente della fondazione culturale dedicata al loro modello di economia, la serata sarà la degna cornice a 50 anni vissuti da pionieri del biologico. Sicuramente è una grandissima occasione di divulgazione e di confronto e un modo per mantenere vivo il pensiero di Gino Girolomoni che ancora oggi è molto attuale. È anche un progetto significativo in un anno particolare perché quest'anno facciamo 50 anni di riesilienza sulla collina di Montebello. La nostra esperienza è iniziata nel 1971 e quest'anno celebriamo i 50 anni e questo progetto ci è sembrato un'occasione, un'opportunità per valorizzare un'esperienza che ha saputo concretizzare una visione ecologica con una nuova impronta economica ed impatto sul territorio. La giornata di martedì 31 agosto comincerà alle ore 16 con la possibilità di ottenere l'annullo filatelico in omaggio a Gino Girolomoni, mentre alle 18 ci sarà una passeggiata alla scoperta della biodiversità che attorni al monastero di Montebello organizzata dall'Istituto della Rovere di Urbagna. Alle 21.15 lo spettacolo Dalla Semina al Cielo, confezionato dal Centro Teatrale dell'Università di Urbino Cesare Questua. La storia di Gino e di Tullia si innesta all'interno di un percorso storico che è quello dell'onda lunga della fine della civiltà contadina, che è qualcosa che ha a che fare tantissimo con le campagne di tutta Italia e che noi tendiamo non tanto a rimuovere ma a dimenticare facilmente perché siamo passati, abbiamo corso in questi ultimi anni a livello di cambiamento delle nostre abitudini di vita. Invece c'è qualcosa da ricordare e soprattutto qualcosa da comprendere per poter poi andare avanti senza bisogno di essere necessariamente tradizionalisti a tutti i costi. Però quella testimonianza non è solo la loro, non è solo quella del biologico ma quella che è il biologico proviene anche da un altro modo di intendere del quotidiano, la nostra vita, la realtà.